Silva Coscina è stata un'attrice italiana nota per la sua bellezza, il talento e il successo internazionale nel cinema durante il medio ventigradi secolo. Nata l22 agosto 1933 a Zagabria, in Jugoslavia, ora Croazia, ha intrapreso una carriera straordinaria che includeva numerose interpretazioni cinematografiche accanto a leggende di Hollywood. Tuttavia, la sua vita è stata segnata anche da lotte personali e tragedie. Il percorso di Coscina verso la fama è iniziato quando è stata incoronata Miss Jugoslavia nel 1952, aprendo le porte a una carriera nella moda e nella recitazione. Ha fatto il suo debutto cinematografico in Italia e ha rapidamente guadagnato riconoscimenti per la sua bellezza e il suo talento recitativo. Il suo talento e il suo fascino hanno superato i confini nazionali, diventando un'attrice molto ricercata nel cinema europeo e hollywoodiano. Negli anni 50 e 60, Silva Coscina è apparsa in una varietà di film, ottenendo consensi della critica e un dedicato seguito di fan. Alcuni dei suoi lavori più noti includono Ercole, 1958, in cui è interpretato il ruolo di Iole accanto a Steve Reeve, e La miliardaria, 1960, in cui ha recitato accanto a Peter Sellers e Sophia Loren. Nonostante il successo professionale, la vita personale di Coscina è stata segnata da tristezza e dolore. Ha vissuto la tragica perdita del suo primo marito, il produttore e regista italiano Raimondo Castelli, in un incidente automobilistico nel 1968. Questo evento devastante l'ha lasciata vedova e in lutto. Raimondo Castelli era una figura di spicco nell'industria cinematografica italiana, lavorando come produttore e regista. Lui e Coscina si sono incontrati per la prima volta all'inizio degli anni 60, e la loro connessione si è rapidamente trasformata in un amore profondo e appassionato. La loro relazione è fiorita nel contesto del mondo glamour del cinema, e sono stati sposati in una cerimonia ricca di sogni e promesse. La loro vita insieme sembrava un vero e proprio racconto di fate. Entrambi erano profondamente coinvolti nel mondo del cinema, con Coscina che guadagnava sempre più fama a Hollywood e Castelli che faceva progressi come regista. Insieme sono diventati una coppia potente all'interno dell'industria, partecipando spesso a premiere e eventi di alto profilo, sembrando vivere una vita incantata. Tuttavia, la tragedia si è abbattuta con devastante rapidità il 28 agosto 1968, quando Raimondo Castelli è stato coinvolto in un fatale incidente stradale mentre guidava nei pressi della città italiana di Alghero, in Sardegna. L'incidente ha causato la sua morte, lasciando Coscina vedova all'età di soli 35 anni. La perdita improvvisa e scioccante del suo amato marito ha distrutto il mondo idilliaco che avevano costruito insieme, gettandola in un abisso di dolore e disperazione. La prematura morte di Raimondo Castelli non fu solo una catastrofe personale, ma anche una profonda perdita professionale per Coscina. Suo marito era stato la sua confidente, la sua collaboratrice creativa e il suo sostegno in un'industria mutevole. Nell'immediato dopo la tragedia, Coscina dovette affrontare non solo il proprio dolore, ma anche l'insistente attenzione dei media, che seguivano ogni suo passo nel suo processo di lutto. Di fronte a questa profonda tragedia, Coscina si ritirò dall'occhio del pubblico, cercando conforto e solitudine per elaborare il suo dolore e navigare nella sua nuova realtà da vedova. Lottò per accettare il vuoto lasciato dalla scomparsa del marito e il peso del proprio dolore. La perdita di Raimondo Castelli ha avuto un impatto duraturo sulla vita di Silva Coscina. Segnò una svolta che ha cambiato il corso della sua carriera e del suo percorso personale. Ha continuato a recitare in film, ma le sue scelte e i suoi ruoli spesso riflettevano un aspetto più maturo e introspettivo del suo talento. Per tutta la sua vita, Coscina ha portato con sé il ricordo del suo primo marito, e la sua assenza ha lasciato un segno indelebile nel suo cuore. In seguito ha sposato il suo secondo marito, il dottor Raimondo Castellani, nel 1990, condividendo la sua vita con lui fino alla sua stessa prematura scomparsa. La tragica perdita del suo primo marito è stata un capitolo commovente nella storia di vita di Silva Coscina. Un'eloquente testimonianza che anche nel mezzo del glamour dell'industria dell'intrattenimento, il profondo dolore e la tristezza possono colpire inaspettatamente. Nonostante le prove personali che ha affrontato, Coscina ha continuato a catturare il pubblico con il suo talento e la sua bellezza, lasciando dietro di sé un lascito che perdura nel mondo del cinema. Nel 1971, Silva Coscina affrontò un'altra crisi personale quando sua madre, che viveva con lei in Italia, morì. Questa perdita fu un colpo profondo, poiché Coscina aveva una stretta relazione con sua madre. Nonostante queste difficoltà, Coscina continuò a lavorare nell'industria cinematografica e rimase un'icona del cinema italiano. Tuttavia, con il passare degli anni, lottò con problemi di salute. Tragicamente, il 26 dicembre 1994, all'età di 61 anni, Silva Coscina morì a Roma, Italia, a causa di un arresto cardiaco. La vita e la carriera di Silva Coscina sono state caratterizzate dal netto contrasto tra il suo successo professionale e il suo dolore personale. La sua bellezza affascinante e il suo talento l'hanno resa una figura amata nel cinema, ma anche subito significative perdite e afflizioni personali per tutta la sua vita. Il suo lascito vive attraverso le sue memorabili interpretazioni e il suo duraturo status di star del cinema internazionale.